Ciao a tutti! Oggi ho preparato il gnocco ingrassato. È una ricetta tipica delle mie parti. Si tratta di un gnocco sfogliato all'interno con della pancetta. Beh, certo, è una ricetta molto ricca, però bisogna prepararla ogni tanto perché è un piacere sia per la vista ma soprattutto per il palato. Volete vedere come si prepara? Seguite! Mettiamo la farina in ciotola o anche nella planetaria. Il lievito, una bustina di lievito disidratato, quindi circa 7 grammi, oppure potete usare un cubetto di lievito di birra. Allora, la farina sono 500 grammi. Diamo una girata. Uniamo anche lo zucchero che è un cucchiaio raso, due cucchiaini, insomma sono 10 grammi di zucchero che aiuteranno il nostro lievito perché l'impasto è bello grasso, come vedrete. Poi andiamo ad aggiungere l'acqua che su mezzo chilo di farina, sui 200-230 grammi, andiamo poi ad aggiungerne un po' alla volta e ci regoliamo. Iniziamo prima col cucchiaio e poi andremo con le mani. Abbiamo aggiunto tutta l'acqua e come vedete l'impasto è duro. L'acqua serve giusto per raccogliere tutta la farina in ciotola. Ora lo lasciamo riposare una decina di minuti, 10-15 minuti, per permettere al glutine già di attivarsi e poi andremo ad unire gli altri ingredienti. Copriamo e facciamo riposare. Riprendiamo l'impasto, noteremo che si è anche un po' ammorbidito, vedete? Quindi adesso cosa vado a fare? Aggiungo il sale. vedete come è già più morbido e quando si sarà mescolato bene vado ad aggiungere piano piano anche l'olio. Che è tanto, eh? Quindi preparatevi a lavorare. All'inizio sembra che non ce la farete mai, no? Ad incorporare tutto questo olio. Poi invece pian pianino l'impasto se lo se lo richiamerà. Dovete solo avere un po' di pazienza. Ecco qui. Però vedete che pian piano pian piano ce l'abbiamo fatta. Non appena vi accorgete che l'olio è stato assorbito. Potete anche poi lavorarla un po' sul piano. L'impasto è stupendo perché guardate fa già le bolle perché è stato lavorato bene. Lo chiudiamo. Lo mettiamo in ciotola di nuovo e questa volta lo lasceremo fino a quando non avrà raddoppiato il suo volume. Circa un paio d'orette. Nel frattempo prepariamo il condimento. Utilizzeremo della pancetta dolce che però dobbiamo rendere un pochino più fine. Un pochino non così tenere cubetti così grossi. Quindi andiamo a frullare leggermente in modo da avere più una crema spalmabile. Il risultato che dobbiamo ottenere è questo. Ci siamo. Il nostro impasto è lievitato. Guardate che bello. Ora andiamo sul piano di lavoro e andiamo a fare il nostro gnocco ingrassato. Infariniamo leggermente e versiamo il nostro impasto. Con l'aiuto delle mani andiamo ad ottenere un rettangolo lungo una quarantina di centimetri per farvi regolare. e largo circa 15-20 centimetri insomma. Potete anche farlo col mattarello ma è molto morbido. Ora prendete circa metà della vostra pancetta e l'andate a, vedete, picchiettare, spalmare su tutta la superficie. Andiamo a piegare in tre, quindi facciamo una piega a tre, così, verso l'interno e l'altro in questo modo. Pressiamo, adagiamo ancora un pochino di farina, così non ci si appiccica. e andiamo a stendere seguendo questo verso, apriamo di nuovo il resto della pancetta e facciamo come prima. Fate proprio in modo di rilasciare il grasso dappertutto, eh. Una volta è terminato, facciamo un'altra piega a tre, così, e così. Pressiamo. Prendete una teglia, questa è, giusto per farvela vedere, circa 40 centimetri per 26, poi ungete leggermente e andate a mettere il vostro impasto. A questo punto accompagnatelo con le mani verso i bordi della teglia. Ungete leggermente anche sopra e con un coltello andate a disegnare, facendo una leggera pressione, delle losanghe. Diciamo che questa è proprio il decoro caratteristico di questo, di questa preparazione. Ecco qui. Lasciate lievitare una mezz'oretta prima di cuocere nel forno. La seconda lievitazione è avvenuta. Andiamo nel forno a 180-190 gradi per circa 15-20 minuti. Pronto, caldo e fumante. Tagliate le porzioni seguendo la losanga e voilà! Gnocco ingrassato. Ma guardate, la sfogliatura è buonissima!